Molotov e munizioni nelle borse della moto. Bene, bene. Mi tornerà utile. Che cosa ti sei perso? Ripetimi il piano. Come ho detto, tutto sta nel rallentarli. Quei bastardi adorano mucchiarsi, salire l'uno sull'altro. Se trovo uno spazio stretto in mezzo a camion, edifici o altri ostacoli, a loro servirà tempo per passare. Ma appena avrò guadagnato qualche metro... Mi farai saltare in aria. Esatto. Ripeti il trucco un po' di volte... e... per di orda. Questo è il piano. Questo è il piano. Buona fortuna. La fortuna non c'entra. D'accordo. Vado. Mi vedo. Fammi sapere se serve aiuto. Ricevuto. Vado. La fortuna non c'entra. Sia! Vado. Va. E' Vado. Vado. Voi servire? Ottimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buon bolle di ossigeno. Queste farebbero un bel botto. Grazie a tutti. 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 a tutti.